Finalmente le pattumelle, contenti? Sì, diciamo di sì. Va bene, tutto sta nell'abituarsi. Io già la facevo, facevo il vetro, facevo la plastica, l'umido no. Almeno eliminiamo un po' di bidoni sporchi e pieni dalle strade. E ormai prossimo l'avvio della raccolta porta a porta anche nel quarto municipio di Bari, che comprende Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, fuori da questa zona in una parte della quartiere Picone. Al via Carbonara, nell'area del mercato di via Vaccarella, la distribuzione delle pattumelle e delle buste per i rifiuti per i cittadini del quartiere. Con questa zona più della metà del territorio della città di Bari viene servita del porta a porta, perché dobbiamo spingere con la crescita della percentuale della raccolta differenziata e soprattutto con la riduzione di quello che viene portato in discarica, perché tutto questo viene fatto non solo per rispettare la legge, ma perché porta un bene e un beneficio all'ambiente. È un momento importante, una tappa importante per tutti noi. A tutti i cittadini io chiedo un esercizio di pazienza e un grande spirito di collaborazione, perché come tutte le novità, anche questa novità spaventa. Ma è una sfida che soltanto insieme possiamo vincere. L'avvio della seconda fase del servizio, con la rimozione dei cassonetti e l'esposizione delle pattumelle e dei contenitori, sarà comunicato attraverso la posizione di adesivi sugli stessi cassonetti. La raccolta porta a porta coinvolgerà quasi 18.000 utenze domestiche, per un totale di oltre 40.000 residenti e 1.523 utenze non domestiche. Questo ampliamento del servizio di raccolta porta a porta consentirà Bari di raggiungere quell'importante obiettivo del 65% di raccolta differenziata, che necessariamente deve essere traguardato entro il 2026, e il porta a porta è senza dubbio il servizio che deve necessariamente accompagnare la città in questo percorso di potenziamento della raccolta differenziata.